Sei pronto a partire per un'avventura epica nel mondo dei Pokémon? Incredibili mega evoluzioni, centinaia di Pokémon da collezionare, esplorazioni, lotte e combattimenti leggendari. Da quale parte starai? Con il team Magma o con il team Hydro? Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha? Solo su Nintendo 3DS e 2DS! Prova subito la demo! Scopri come ottenerla su Nintendo.it! Scopri come ottenerla su Nintendo.it!